Nuove regole per l'utilizzo dei buoni pasto. Da domani entra in vigore il decreto legge approvato a metà agosto che introduce nuove possibilità di utilizzo dei ticket. Tra le novità più importanti il numero dei buoni spendibili dal lavoratore. Se infatti prima la legge imponeva l'obbligo di un solo buono pasto al giorno, da domani si potrà andare alla cassa con massimo 8 ticket alla volta. Una regola che di fatto sembra più il riconoscimento di una prassi consolidata, soprattutto nella grande distribuzione dove i supermercati già da tempo permettevano l'utilizzo di più buoni contemporaneamente. Ma da domani i possessori di buoni pasto avranno ancora più possibilità di spendere il loro ticket. Non più solo nei bar, tavole calde e alimentari. Grazie alle nuove regole sarà possibile usare i buoni sostitutivi della mensa aziendale anche nei mercatini, negli spacci e negli agriturismi, praticamente ovunque. Resta invece il divieto di cessione del buono a persone terze. Sarà spendibile solo dal lavoratore non potrà ricevere il resto in denaro ma potrà integrare in contanti il valore del buono per raggiungere il costo dell'acquisto.